Non possiamo accettare pagamenti in rubli, la Russia non ha diritto a pagare in rubli perché non lo prevedono i contratti e non mi risulta ci sia la facoltà per i contraenti russi di pagare in divisa nazionale, in moneta nazionale, quindi devono pagare a seconda dei contratti in dollari, euro, quello che è, ma non in rubli, non ricorrono le condizioni e ricorrono tutti gli estremi per cui i contraenti nostri che ci rappresentano, europei e le controparti quindi internazionali si rifiutino di accettare i rubli, poi ovviamente ne nascerà un'avvertenza, è chiaro che sarà un braccio di ferro, ma ritengo del tutto illegittima la pretesa di pagare in rubli quei contratti.